Che attiene al ciclo? Quali sono i piani di esistenza? Commento. I piani di esistenza nel mondo della percezione che attiene al ciclo delle incarnazioni umane sono il piano fisico, il piano astrale, il piano mentale e il piano della coscienza. Il piano fisico è quello in cui chi scrive e chi legge mantiene adesso la propria consapevolezza. Il piano astrale è quello in cui chi scrive e chi legge prova sensazioni, emozioni e desideri. Il piano mentale è quello in cui chi scrive e chi legge pensa ciò che scrive e che legge. Il piano della coscienza è quello in cui chi scrive e chi legge ama quello che scrive e quello che legge. Grazie.